Fabio Genovesi Beh, le prime dieci pagine sono importanti, ci sono autori che cominciano non dall'inizio, magari c'è un capitolo che è importante per loro e poi magari nel romanzo sarà a mezza storia e va bene così. Per me le prime pagine sono quelle che cominciano il libro e di solito, visto che scrivo senza sapere la storia, non la conosco, nessuno leggerebbe un libro sapendo cosa succede, sapendo tutto quanto, non vedo perché io dovrei spendere anni di vita per scrivere un romanzo di cui so già quello che succede, insomma è bello scoprire mentre scrivi. E allora io veramente l'unica cosa che so sono le prime pagine e alcune frasi che mi colpiscono e allora ho quelle in testa e comincio a pensarle e più dico ma chi le dice queste cose, chi le ha detta, dov'è, cosa sta facendo, chi ha suo padre, chi ha sua madre e piano piano si allarga tutto. Quindi le prime dieci pagine sono per me una cosa che mi arriva per fascinazione, per casualità, per cose che, frasi che sento per la strada magari così e dico bella sta cosa, perché avrà detto quella frase lì, no? Ti tuffi dentro, e poi qualcuno ti manda le onde. Sì, l'importante è mai chiedere, vedi il libro si chi manda le onde, però non è importante sapere chi te le manda, l'importante è saperle prendere e quindi, e capire che arrivano e giocarci. E allora è così, la scrittura di un libro è sempre un moto onduoso, ci sono onde più leggere, più forti, basta non essere troppo schematici, troppo ragionieri mentre scrivi un libro, devi essere veramente come in mare. Io una volta ero al mare con amici su una scogliera e mi divertivo a prendere le onde e mi risbattevano a terra e ritornavo in mare. Un mio amico che aveva paura di farlo, lo convinco a farlo perché gli dico, vedi che non succede nulla, lo fa ma è rigido, non sa stare, la prima onda che lo riporta arriva, lo sbatte su una scoglia e l'abbiamo portato al pronto soccorso. Nella vita saperle prendere le onde è fondamentale. Quindi un po' surfarle. Sì, io devo dire che col surf non ho, vengo da Forte dei Marmi dove la tradizione del surf comunque ormai è consolidata, non l'ho mai fatto, non è la cosa mia, però mi piace molto, mi piace molto l'idea, il rapporto col mare. Qualunque cosa, soprattutto ti porti fuori di casa e ti porti all'aperto e soprattutto al mare è positiva. Certo, quindi tu entri in rapporto col tuo lettore e con te stesso nello stesso momento. Sì, perché raccontando una storia che non conosco nemmeno io nella prima stesura mi stupisco insieme al lettore di quello che succede ed è fondamentale perché troppo spesso leggi storie scritte da scrittori che ti fanno un po' da professori, ti spiego, devi sapere che mi annoiano. La storia non è questa cosa qua, le vere storie sono quelle che ti raccontano le persone con entusiasmo. Anche una persona a cui è appena successa una cosa molto bella o molto brutta e te la racconta scosso, sei più partecipe. E io cerco di fare così, cioè quando Serena e Sandro capisco che ci può essere qualcosa, dico non ci posso credere, Serena e Sandro, vediamo un po' che succede e lo scrivo. Se lo sapessi già non lo scriverei con la stessa intensità. Ho capito, quindi scoprire, scoprire insieme al lettore, nelle prime pagine, nel primo tuffo. Sempre, sempre, mai pensarsi più intelligenti del lettore è un'idiozia enorme e si sente subito quando legge la storia. Grazie, grazie. Allora Marta Palitto per il Festival delle Storie con Fabio Genovelli.